L'ex calciatore della Nazionale Argentina Mario Kempes, intervistato da TX Sports, ha parlato così dello sfogo di Dybala, e della possibilità di non vedere l'albiceleste al mondiale. Dybala ha ragione, è difficile giocare insieme a Messi. Sarebbe una catastrofe se l'Argentina non si qualificasse, ma non capisco chi sostiene che ci sia un problema psicologico. Se parlassimo di ragazzi senza esperienza o abitudine di giocare in stadi pieni lo comprenderei, ma non è questo il caso.